Il successore dell'avvocato Giuseppe Panebianco dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana quando si terrà la prosecuzione dell'Assemblea del lato rifiuti tenutasi lunedì mattina. I sindaci dell'ambito si sono riuniti alla corsa e a due il sindaco Lucio Greco ha proposto di affidare l'incarico di commissario liquidatore a Giuseppe Lucisano che alla fine dello scorso anno è stato scelto dalla regione per guidare l'IPA Baldisio dopo il commissariamento della struttura di capo soprano. Il rapporto tra Greco e il commissario etneo che ha esperienza nel settore rifiuti per attività svolta in gruppi di questo comparto si è consolidato proprio a partire dalla vicenda IPAB ed entrambi hanno deciso di ritornare sulla strada della gestione pubblica dopo la fase di affidamento alla società privata La Fenice. La soluzione esterna proposta dall'avvocato con un funzionario comunque non espressione del territorio ha indotto altri sindaci in testa quello di Riesi Salvatore Chianti ad avanzare un'opzione differente. È stato indicato il nome del commercialista gelese Salvatore Sauna e la professionista ha sostenuto la campagna elettorale del sindaco greco ed era stato proposto come consulente a titolo gratuito. Poi non se ne fece più nulla. L'assemblea del lato ha preso tempo per arrivare ad un accordo complessivo e all'inizio della prossima settimana si dovrebbe arrivare a sciogliere l'ultima riserva. Pare Bianco dopo circa dieci anni di guida del lato diversi mesi fa aveva presentato le dimissioni essendo stato nominato amministratore della Catanzaro Costruzioni l'azienda privata proprietaria della discarica agrigentina di Siculiana. L'addio della professionista è stato congelato perché i sindaci del lato non erano riusciti a raggiungere un'intesa sul nome del successore. Ora i candidati rimasti sono due. La scelta alla guida del lato arriverà dopo quanto verificatosi per la SRR4 con la presidenza affidata al sindaco di Butera Filippo Balbo che ha preso il posto del primo cittadino di Riesi Salvatore Chiantia che ha scelto di lasciare per impegni istituzionali e lavorativi. In queste settimane gli equilibri della governance nel sistema rifiuti locale vengono rideterminati in un periodo molto delicato. La gara per il lotto di Gela è ancora da segnare quella pluriennale attende da diverso tempo. Tecra allo stato delle cose continua a gestire le attività in proroga. Le decisioni sia ai vertici della SRR che dell'ato adesso destinato alla definitiva messa in liquidazione sembrano comunque passare da palazzo di città. Ato avanzato nel tempo una serie di azioni giudiziarie nei confronti del comune. L'ambito come accertato da Panebianco e dai suoi tecnici vanta crediti superiori ai 16 milioni di euro.